Salve a tutti amici di Crypto Jam e benvenuti a un'altra puntata dove analizziamo il mercato delle crypto Allora oggi volevo fare questo video di emergenza perché abbiamo avuto un flash crash del mercato E volevo farvi vedere anche una cosa perché io il 24, due giorni fa, ok, avevo postato Infatti oggi l'ho ripostato, comunque avevo postato questo pattern, ok L'avevo postato il 24 ottobre e ho detto potenziale head and shoulder si sta creando sulle 4 ore Allora il head and shoulder ragazzi, head and shoulder è un pattern ribassista, bearish, per le criptovalute, ok Ed è esattamente come vedete uguale al pattern che si è creato sui bitcoin, se andate a vedere sono molto simili i pattern, ok Allora quanto giù può andare, quanto giù possiamo aspettarci che vada questo head and shoulder Allora, cominciamo a vedere, intanto la lunghezza del head and shoulder solitamente è quanto in giù ci aspettiamo che questo possa andare Quindi se le previsioni dovessero rivelarsi esatte, noi dovremmo andare giù fino ai 52.600 circa, ok Quindi in questo range qua di prezzo Che comunque coinciderebbe esattamente con questa resistenza, vedete? Questa qui dove c'è questa punta, questa resistenza, ok È uno scenario che potrebbe avverarsi, ok Perché comunque solitamente poche volte questi pattern vengono smentiti Un'altra cosa qua su trading view, vediamo bitcoin Ok, BTC, USD, adesso andiamo a vedere tutte le altre coin e vediamo com'è Allora, vi ricordate il channel verde che ho detto dobbiamo rimbalzarci giù Però speriamo di non romperlo a ribasso Come vedete abbiamo rotto a ribasso il channel, questo qua, ok E come vedete questa linea arancione che avevo disegnato mesi fa E che è una resistenza, un supporto molto forte Ed era una resistenza molto forte È proprio quella in cui bitcoin dovrebbe arrivare Quindi dove ci aspettiamo il prossimo crash? Ce l'aspettiamo se non riusciamo a stare sopra il 57, ok Quindi questa zona qui è una zona molto pericolosa Che se sfondiamo qua il pezzo andrebbe velocemente fino ai 51, 52, ok È un buon segno, è un brutto segno Sinceramente ragazzi dai dati della fondamental analisi bitcoin è ancora molto bullish, ok E quindi ci dovremmo aspettare comunque continui a salire Nel breve termine potrebbe essere che abbiamo questo retracement, ok Quindi vediamo le altre criptovalute ethereum Ecco ethereum ha superato il channel che io avevo disegnato Ok Guardate Sta rompendo il channel Ok Non è un buon segno per ethereum Io ethereum se dovessi ricomprarlo Probabilmente questo sarebbe uno dei punti in cui andrei a riprenderlo A 3.6, se questo verrebbe qui se bitcoin va a 52, ethereum andrebbe a 3.6, 3.7, ok Quindi io aspetterei qua Se dovesse continuare a scendere Va bene Poi ieri Praticamente io avevo condiviso anche hollow chain Perché è uno dei miei progetti preferiti Io ce l'ho ancora Allora praticamente hollow Ieri avevo disegnato questo channel come vedete E hollow esattamente è andato ad imbalzare sulla punta del channel Per poi ritornare su Sinceramente è ancora un prezzo Non così male Perché essendo una small cap di solito vanno giù del 10-15% In questo caso abbiamo avuto un crash del 20% Ok Come dimostrato Però ha mantenuto lo stesso livello Quello Cioè la resistenza Scusate Il supporto Che avevamo disegnato ieri Come vedete c'è andato proprio perfettamente Quindi Io hollow chain non lo vendo per il momento Ce l'ho ancora Penso che se bitcoin dovesse ritracciare non c'è problema E quindi non vendete niente ragazzi Cioè se siete Se state facendo trading Quindi dei trade String trade Usando gli stop loss Come io vi avevo consigliato Dovrebbe aiutarvi no A uscire dalla posizione non in perdita O non con perdite grosse Se siete qua a lungo termine Ok Non ha senso vendere ora Perché bitcoin comincia ad avere un sacco di adoption Ok Ieri avevo condiviso anche Un'informazione Che praticamente Eccola qua Faceva vedere il flow di soldi all'interno dei digital asset E come vedete nelle ultime settimane c'è stato Un Investimenti pesantissimi qua Nei digital asset come vedete Quindi Bitcoin è bullish Perché bitcoin però ha fatto così Cos'è questo flash crash Ok Sono liquidazioni Cosa vuol dire Che qua c'è tanta gente che era in leva finanziaria Ok E Essendo in leva finanziaria Quando scendono al di sotto di questi Vengono liquidate Quindi quando viene liquidata una persona Scende ancora più giù Viene liquidata un'altra Scende ancora più in giù E fa un effetto domino Questo effetto domino Porta il prezzo a scendere giù in maniera assurda Infatti se andate a vedere su Ada Cardano Che Ada è un altro dei mail Guardate Ada Guardate Ada Queste sono tutte liquidazioni di mercato Tutta gente che è stata liquidata Ok E a proposito di Ada Ok Ha sfondato a ribasso Come abbiamo visto questa cosa qui Io me lo aspettavo che sarebbe andato rialzo Però ve l'ho sempre detto Ragazzi guardate bitcoin Perché se bitcoin non fa bene È inutile che andate a comprare gli altri asset Quando bitcoin sta andando male Non ha senso Se bitcoin sfonda a ribasso Quella head and shoulder Era inutile comprare altri asset Come Ada XRP O tutti quegli asset lì Tutti quegli asset lì vanno bene Quando bitcoin sta andando bene Quindi guardare sempre il king Ok Quindi in questo momento abbiamo avuto Un crash di Ada Quindi ha svalidato questo Ha invalidato diciamo questa resistenza Questo supporto a ribasso E i punti salienti di Ada Sono già arrivati Secondo me Ada già qui Non ce lo vedo scendere più in giù di così Ok Quello che serve a noi adesso È che Ada non vada sotto L'1 e 8 Ok Quindi Non scenda sotto qua Non deve scendere questo livello Deve reggere Se regge a questo livello Potremmo rivedere poi un rialzo più avanti Quando bitcoin si riprenderà Però ragazzi dovete sempre Guardare Il maledettissimo bitcoin E se andiamo a vedere il bitcoin dominance Vi insegno anche sta cosa Bitcoin Vedete che il bitcoin dominance è andato su Perché? Perché quando c'è un crash del mercato La gente converte le all coin in bitcoin Ok Perché bitcoin è quello che regge meglio Ai crash Che quando c'è un crash per esempio Di bitcoin del Quanto è stato qua? 2% 2,6% Le all coin Quadriplicano Cioè Crashano del 10-20 15-12% Quindi la gente cosa fa Converte i soldi in bitcoin Per attuire la caduta Ok In speranza che poi bitcoin è sempre il primo a rialzarsi Quindi bitcoin è sempre il primo a riprendersi dai crash Quando succedono Quindi va su Poi quando cominci a andare giù la dominance Rivendono per comprare le all coin Vediamo shiba Allora Allora shiba Ragazzi io avevo detto che sarebbe arrivato i 55.000 E li ha anche superati Ok Quindi il mio target di shiba era qua 55.000 Sinceramente ora come ora ragazzi Io Shiba non ha più resistenza Non ha più niente Ieri avevo detto che se rimbalzava sopra questa linea blu Ok E questo se lo andate a vedere nel mio channel L'avevo detto ieri Dov'è Shiba Vediamo È stato un po' troppa roba ultimamente Ecco qua Io l'ho detto Shiba rompe la resistenza Rompe di testa la resistenza Tra gli ultimi due swing Se rompe a ribasso 55 in arrivo Guardate qua Vedete Guardate qua Vedete Non rompe a ribasso E infatti È andato su 55 Ora come ora ragazzi È difficile dire Però sono sicuro che se dovesse rompere a ribasso questa resistenza Sicuramente vedremo ancora più downside per shiba Ok Però io lo vedo molto forte shiba in questi momenti Ok guardate qua Io lo vedrei così Se dovesse rompere all'in su Per il momento secondo me Questo potrebbe essere Un movimento di shiba nel breve termine Ok Poi cos'altro possiamo vedere Cos'altro possiamo guardare Avevamo visto ethereum Avevamo visto ada Avevamo visto Shiba Shiba Hanno visto hollow chain Allora sono tutti ancora nei range Quindi hanno tutti retto È stato un flash crash Questo è dovuto alla liquidazione Ragazzi capite questa cosa Liquidazione Non è gente che Non sono holder che svendono bitcoin Ma è gente che viene liquidata dal mercato Perché sono in leva finanziaria 10-20% Quindi Ora come ora bitcoin deve ricostruire questo supporto Su Su delle fondamenta più forti Ok Quindi che bitcoin nei prossimi giorni Sia in questo range Va benissimo Non dobbiamo sfondare qua Se sfondiamo qua ragazzi È un allarme È un brutto segnale È un warning Perché qua Ci riporterebbe Di nuovo verso i 40 E i 30 mila Ok Quindi Dobbiamo rientrare in questi parametri di sicurezza Ethereum la stessa cosa Ethereum ragazzi Guardate Continua a scendere Ethereum Dobbiamo rimanere qua dentro Questo channel Non qua Dentro a questo channel va bene Qua non va bene Ok Quindi Questo è tutto per oggi ragazzi Come voi Sono uno di quelli che ha un sacco di holding Nelle criptovalute Quindi Non è mai bello svegliarsi e vedere un 20% del tuo portfolio giù Quando si tratta di migliaia e migliaia di euro Però Noi crediamo nel lungo termine delle criptovalute E quindi Sappiamo di essere ancora in tempo Perché gli investitori giganti Stanno arrivando proprio in questo momento Stanno entrando ora Cioè ci sono investitori banche Che entrano A livelli come 4000 per Ethereum O 60.000 per Bitcoin Quindi noi ragazzi siamo ancora Alle prime fasi di questa rivoluzione Che se siete Dentro per il lungo termine Farete un sacco di soldi ragazzi Se siete qui Perché domani mattina Volete svegliarvi E trovare 10 mila euro nel portfolio Allora andate al casino E fate prima Qua si fanno Analisi Tecniche Fondamentali E che di solitamente Come vedete Funzionano alla lettera Ma essendo che anche quelli a ribasso Funzionano alla lettera Non è che perché dopo andrà male È perché Il mercato ha bisogno di un retracement Ha bisogno di un cool off Ha bisogno di liquidare queste persone Che sono in leva Ok? Perché queste persone che sono in leva Portano soldi Dentro Gonfiano bitcoin E gonfiano le criptovalute E quindi Rendono questo mercato Sempre più volatile Quindi noi non vogliamo Queste persone in leva Io preferisco andare Ai 70 mila Agli 80 mila di bitcoin Con gente Che compra bitcoin Piuttosto che Con miliardi in leva finanziaria Perché? Perché arrivato all'80 mila Basta una cosa del genere Mi riporti giù ai 40 mila subito Quindi Bene Liquidazioni Fuori dai coglioni E adesso cominciamo Ad accumulare Quindi accumulo 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 Riportiamo su bitcoin Costruiamo delle basi solide Per le nostre criptovalute Questo è tutto Da Crypto Jam E ci vediamo alla prossima puntata